buongiorno ragazzi siamo a oggi è 5 o 6 dicembre e vi volevo far vedere questo agilemon che sto tentando di svernare come vedete attaccato a un muro relativamente caldo non ci batte mai il sole neanche la pioggia e ora i vari frutti stanno maturando questo agilemon che è anche detto otto leono lemon drop che è un capsicum baccatum quindi combatte bene il freddo e guardate che bella pianta continua a essere alta quasi due metri piena di frutti a dicembre a riparo speriamo che sverli bene vedete il paragone con capsicum cinense questo è il lemon river piantato a marzo già si vede dalle foglie che questo inverno che il freddo lo sta un po menando ma insomma non è ridotto malissimo niente a che vedere guardate bello questo che sfumature ragazzi agilemon semi strang di carlo martini adios